Ogni volta che mi ritrovo a parlare con i miei amichetti creator di Persona o Via Messaggi esce sempre fuori il discorso ma le case editrici italiane che stanno a fare? Con vari rant che partono per idee bislacche che hanno, mosse di marketing strane o semplicemente idiozie commesse? E dato che sono un signore, anche se ogni volta esce fuori che più o meno tutti abbiamo la stessa opinione, farò esattamente come i creatori di South Park con l'episodio di Scientology, ovvero se c'è qualcuno che deve essere blacklistato da ogni singola case editrice, quel qualcuno sarò io. Ovvero Matteo Di Bella, conosciuto come Osloot MDB sui social, saggista e creator abbastanza rompipalle che a questo punto, per non finire sull'astrico, vi invita a iscrivervi, attivare la campanella e lasciare like perché a questo punto diventerà la mia unica fonte di guadagno dal momento che non potrò più neanche rivendermi i prodotti che mi inviano le case editrici gratis. No, aspetta, mi confondo sempre. Quello non lo facevo io, quello lo faceva Redatto. È indubbio che il fumetto, soprattutto quello giapponese, abbia avuto un enorme boom durante la pandemia, che ha fatto chiudere in casa innumerevoli ragazzini che, grazie ai creator che seguivano, ma grazie anche semplicemente agli anime che hanno visto per occupare il loro tempo, hanno scoperto che nelle fumetterie sono venduti fumetti, facendo credere per ben tre mesi alle case editrici che il fumetto fosse finalmente esploso, iniziando a compiere scelte bislacche di marketing che in questi quattro anni – micchia, quattro anni dalla pandemia? Orca miseria – che in questi quattro anni hanno completamente avvelenato il mondo che noi tanto amiamo, diventando un organismo che non guarda più a noi lettori appassionati che fin dall'inizio dei tempi stavamo lì a dire che belli i fumetti. Bensì a quelle persone che devono essere catturate dal manga fresco di stampa, appena stampato appunto, perché è uscito l'anime, che loro hanno visto ovviamente illegalmente, perché figuratevi, e quindi devono portare soldi nelle casse. E badate bene, qua non si tratta di gatekeeping, io c'ero prima di voi e ho più diritti. Bensì è indubbio che a venir coccolato ormai non sia più il lettore fidelizzato, ma il lettore che deve comprare quel numero uno di quel fumetto. Magari grazie a una copertina variant fatta per l'occasione, della sbrilluccicosa, che comprerà perché poi magari si rivende. E se da un lato io capisco benissimo l'idea del stampiamo il fumetto con l'anime che ha fatto più scalpore quest'anno, perché penso che sia uno dei modi anche più meritocratici per decidere quale IP comprare, il modo in cui le variant hanno ormai imprigionato il fumetto è diventato estremamente spaventoso, basato su un modello soprattutto americano, che guarda un po', in America si è dimostrato inefficace, dato che ormai se tutto è una variant, allora niente più è speciale. E si perde il concetto stesso di variant particolare che ti vendono. Sapete perché One Piece Gold vale una fracca di soldi? vale così tanto perché appartiene a un periodo storico, forse il colpo di coda di quel periodo storico, in cui la variant era sì qualcosa di importante, sì qualcosa di prezioso, ma era ancora qualcosa un po' più legato a una licchia di forti appassionati. Numeri piccoli, tiratura molto bassa, venduta soltanto in un determinato luogo e poi mai più, poi sparita completamente dalla circolazione, appartenenti a un periodo in cui sì, appunto, era figo, ma non valevano, almeno per noi italiani, così tanto. A un certo punto, però, le variant hanno fatto iniziare a odorare alle persone il profumo dei soldi, sono resi conto che sì, le variant possono portare guadagno. E allora cosa succede? Appena esce una variant, tutti si fiondano a comprarla. E le case editrici dicono No, qua ci possiamo capitalizzare. Stampano più variant, che la gente compra perché dice ma magari fra cinque anni questa vale un sacco di soldi. Diventa un vero e proprio circolo vizioso che si autoalimenta, al punto tale che poi vengono stampate così tante variant che dopo una fiera del fumetto alcune copie rimaste invendute vengono messe su internet e vendute online. Belle variante limitate, eh? Sapete però cosa succede quando tutti hanno la propria variant limitata e tutti l'hanno portata a casa? Che quella variant limitata non vale niente. Ed è il più classico esempio di una casa editrice che sfrutta il pollo che compra. E soprattutto se poi queste variant sostituiscono altre opere che mi interessano oppure ci fanno la menata delle bisogna alzare i prezzi perché non c'è carta procedendo poi a stampare 200 variant tutte uguali io, da lettore, posso comprenderlo ma mi sento preso in giro. E poi questo accade anche in maniere stranissime. Ho visto variant di Okutono Ken e One Piece 100 stampate in così tante copie che nelle fumetterie e librerie dove vado io ce ne sono pile usate per tenere le porte ferme. Fino a variant strane tipo quella fatta per gacciacuta venduta all'interno di un bidone della spazzatura. che a questo punto io spero solo abbiano chiesto il permesso agli editori giapponesi prima di fare una mossa del genere perché altrimenti neanche immagino cosa possa pensare un editor o un autore della Shuesha in questo caso nel vedere che il proprio manga all'estero è venduto in un bidone dell'immondizia. Il manga venduto come spazzatura ma a che punto siamo arrivati che poi questo presagio che mi era stato mostrato avendo un manga in un bidone dell'immondizia mi ha fatto desistere dal comprare quell'opera perché mi sono sentito strano quando l'ho visto in vendita. Come detto poc'anzi non è un male se in Italia vengono portati manga di opere che fanno successo in Giappone. Addirittura c'era un meme un po' di tempo fa della J-pop che appena vede l'anime che fa successo è già pronta a stampare tipo Skip & Lofer. E per quanto di per sé non sia un male perché è un modo meritocratico piace quell'anime e stampiamo il manga è sintomo secondo me anche di un mercato che piano piano si sta autodistruggendo. Più opere arrivano più la quantità aumenta più è fisiologico che la qualità si abbassa arrivando ad opere che da un punto di vista anche dell'adattamento risultano alcune volte insufficienti o semplicemente poco curate e se mi seguite sugli altri social saprete che io parlo spessissimo di questo problema per Dragon Ball ad esempio in cui nella sua versione riveduta e corretta per collezionisti presenta le stesse problematiche di adattamento che presentava un'edizione economica stampata dieci anni prima se non di più. E dopodiché manga su manga riempiono le vetrine delle vostre fumetterie e librerie eppure nessuno di questi manga riesce poi davvero ad attecchire sul pubblico italiano trasformandosi rapidamente in un semplice prodotto usa e getta che al più viene spinto o spinge la fruizione di un anime del momento non a caso le variant anime. Ancora una volta come il panorama americano in cui i comics supereroistici vivono questo drastico calo di vendite che riesce timidamente a rialzarsi solo quando esce un film e annunciano la testata che riparte da capo guardate un po' la coincidenza e già io posso sentirvi oselotti ma semplicemente stampiamo le opere che già esistono in Giappone quindi se vanno bene lì perché c'è qualcosa di male se vanno bene o non vanno bene anche qui e avreste perfettamente ragione non stiamo creando da zero opere le stiamo importando dal Giappone se non fosse che anche in Giappone stanno vivendo questa stessa identica crisi proprio per un mercato che inizia a saturarsi e paradossalmente alla gente non frega più niente e le vendite delle riviste manga calano riguardo a ciò vi linko un video non mio che secondo me è molto esplicativo in Italia avremmo tecnicamente il pregio di poter selezionare le opere e fare una selezione oculata in maniera tale che non siano tante in maniera tale quindi da poterle spingere meglio di poterne parlare meglio perché meno titoli puoi dare più qualità alla comunicazione al prodotto in sé e per sé e fare in modo che il pubblico si affezioni a quelle opere se scegliessimo con più cura perché a esempio opere che in Giappone non si fila praticamente più nessuno da noi sono ancora amatissime del passato mentre invece manga di successo in Giappone da noi arrivano fanno il boom grazie all'anime e poi spariscono perché il numero delle cose proposte è cresciuto di numero ma non di qualità quando vado nei negozi vedo scaffali su scaffali pieni di manga mediocre dello shonen del momento la cui unica qualità è aver avuto un anime che ha fatto estremamente successo con la prima stagione basta di quel prodotto derivativo portato solo perché spinto dal titolone a cui fa riferimento ma che anche in Giappone è alla stregua di una pubblicità del manga che ha venduto uno sfacelo di numeri 1 perché in fiere rappresenta l'autore che firmava sketch a patto che tu comprassi il numero 1 e poi è sparito e adesso quei numeri 1 sketchati invadono ebay e vinted avere una grande scelta è bello ma non è bello averla fra prodotti mediocri che per la loro quantità smisurata fanno sì che la qualità generale si abbassino esorabilmente e il fumetto diventa quindi un prodotto usa e getta utilizzato in maniera capitalista e non come effettiva forma d'arte che andrebbe valorizzata a 360 gradi e questa cosa è palese perché se poi andiamo a vedere i dati di vendita italiani quando esce un volume fra i primi posti della classifica si posiziona Dragon Ball Super Dragon Ball Super il prodotto che persino i fan di Dragon Ball in realtà schifano un prodotto che in Giappone è stampato su una rivista minore utilizzata per fare pubblicità giochi di carte videogiochi derivativo di un altro prodotto più famoso che in Giappone non è quasi mai neanche nella top 10 di vendita di fumetti anzi è fortunato se rientra nelle top 20 ma perché questo? perché noi italiani abbiamo gusti brutti? no perché Dragon Ball Super è il meglio che l'editoria italiana possa offrire? no assolutamente soltanto perché non vi è la capacità o la volontà di spingere altri prodotti che non siano già famosi grazie all'essere prodotti derivativi da titoli molto più grandi e di conseguenza dominare le vendite non è un bel prodotto nuovo bensì un prodotto mediocre con poca qualità in sé che però fa riferimento a quel titolone che in Italia vende tanto e il problema è che il compito di spingere le vendite anche di altri prodotti dovrebbe essere delle case editrici che però non dovrebbero semplicemente limitarsi a fare un post per dire vedete che è uscito il fumetto dovrebbero riuscire a venderci la consapevolezza del capire perché quel particolare fumetto meriti di essere letto bisogna iniziare a creare contenuti che affrontino a 360 gradi l'importanza del fumetto e poi di quel particolare fumetto per lavorare su una piattaforma web che sia interattiva con lo spettatore contenuti mirati verso una particolare fascia di appassionati e non semplicemente la classica pubblicità tipo in televisione in cui c'è Pino Insegno che a metà di reazione a catena dice questo esce ogni settimana è la rivista ufficiale e quando non ci riescono le case editrici il compito viene delegato a chi sul web ci vive gli influencer tutto è un capolavoro ma se tutto è un capolavoro niente è un capolavoro questo è il discorso che facevo tempo fa in seguito alla lettura di Shibatarian manga senza infamia e senza lode che in occasione del Napoli Comicon venne incensato quasi come se fosse la seconda venuta di Gesù Cristo una rivoluzione assurda che avrebbe scosso le fondamenta qualcosa di mai visto prima in questo panorama che dopo il primo numero uscito al Napoli Comicon in cui poi tutti gli influencer in posa con l'autore con la maschera di cartone con il volume variant dal secondo in poi non ne ha parlato più nessuno chissà che fine ha fatto e come per Shibatarian questo copione in realtà si ripete per tutte le serie che arrivano in Italia a prescindere da editore titolo stampa genere target qua non si sta parlando eh lo fa solo quella casa editrice no no qualsiasi titolo che arriva in Italia appena un prodotto arriva sedicenti influencer che hanno tutti comprato in contemporanea il manga il numero uno si sbracciano per dire come mai quel manga spaccherà i culi di tutti gli altri manga fino a quel momento pubblicati e subito dopo nessuno ne parlerà mai più al limite farà una fugace apparizione in un videoacquisti tirato così ah ho comprato anche questo si lo sto ancora seguendo più niente videoacquisti ovviamente sponsorizzato dal sito con cui collaborano perché loro ricevono prodotti gratis e voi avete un 5% sul totale o 10 o 15 ogni sito ha la sua percentuale che anche se voi ci collaborate con quel sito e sto parlando in generale se quei manga ve li hanno regalati dovete dirlo è la normativa e sia ben chiaro non è che se ti piace un prodotto sei destinato a doverne parlare per tutta la vita non è come Dragon Ball con me io sono un caso a parte perché sono pazzo e tuttavia non è neanche possibile che il mese prima era per te un capolavoro e il mese dopo è come porca si dice forniti un italiano mannaggia e il mese dopo è un pezzo d'arredamento nella tua libreria e questo modus operandi è esattamente il livello pubblicitario dei manga in Italia che causa il problema di cui ho parlato poc'anzi ovvero tanti prodotti che magari vendono uno sfacelo col numero uno e poi successivamente muoiono restando relegati a una piccolissima nicchia di gente che si appassiona ma che non ne parla poi più sul web e questo è chiaro anche dai video che fanno anche alcuni influencer che ci provano magari a fare video più specifici su alcuni prodotti che fanno pochissime visualizzazioni case editrici inviano il primo numero agli influencer che poi ne parlano ovviamente sempre benissimo e non so il motivo non penso sia perché impongono le case editrici che se ne parli bene ma sicuramente magari qualcuno lo farà per la paura che dice ah magari se non ne parlo bene poi non mi inviano più niente non possiamo saperlo adesso non voglio fare l'azione in merito stato sta che se ne parla sempre benissimo e poi finisce tutto lì il primo numero vende uno sfacelo perché i follower di questi influencer comunque si fidano io so che anche voi vi fidate di me se vi consiglio un fumetto c'è chi lo compra i giapponesi si tranquillizzano perché vedono che le vendite vanno molto bene in Italia per questo primo numero perché sia i giapponesi interessano come vanno le vendite altrimenti non rilascerebbero le IP così tranquillamente a editor italiani a loro interessa che il loro fumetto venda bene quindi si interessano i dati di vendita infatti mi chiedo poi cosa pensino a vedere magari la vendita del secondo terzo numero ma quelli sono altri discorsi e via così verso la prossima serie e guarda caso Dragon Ball Super diventa campione di vendite perché il capolavoro del mese prima il mese dopo neanche in classifica come è possibile terribile risultato del fatto che le case editrici si sono improvvisamente trovate a dover lavorare in un mondo che tutto sommato non conoscevano ovvero quello dei social per vendere i loro prodotti in un contesto in cui sei molto più a contatto anche con il lettore stesso che era impensabile fino a 15 anni fa in cui al più inviavi la lettera ma finiva lì l'interazione li ha appunto fatti rivolgere a chi in quel mondo comunque ci bazzicava già da un decennio ovvero gli influencer in un atto che è praticamente uno scaricabarile perché da un lato abbiamo una classe dirigente per lo più vecchia gente anziana che non ha idea per ragioni anagrafiche ma anche perché non vuole informarsi di come funzioni il web ricordate quando durante la pandemia ci provarono a fare alcune live e in realtà sembravano soltanto degli spot pubblicitari fatti tipo quelli televisivi e non delle analisi sui prodotti che stavano vendendo questo perché applicavano le regole di una televisione a fruizione passiva a un media che invece ha una fruizione attiva ovvero il web e dunque hanno delegato questo compito agli influencer influencer che la maggior parte di essi si limitano a fare unboxing e videoacquisti e che nella pratica non affrontano mai il fumetto in maniera analitica semiologica semantica riducendo quindi questo rapporto collaborativo a un ti mandiamo il fumetto magari vieni in fiera il mio l'ho fatto e non vale per tutte le case editrici sia ben chiaro ad esempio ho un ottimo rapporto anche di scambi per quanto riguarda di pareri e di prodotti che secondo me funzionerebbero meglio sul mio canale rispetto ad altri prodotti ma voi non avete idea di quante case editrici io abbia avuto a che fare o anche mi hanno raccontato altre persone che ci hanno avuto a che fare che mandavano il fumetto e finiva lì tutto quando secondo me ci dovrebbe essere uno scambio continuo per riuscire a ragionare su come parlare di quel fumetto su come valorizzare quel fumetto su come riuscire a catturare l'interesse del lettore verso quel fumetto il tuo compito come case editrice non è soltanto che devi mandarmi la copia e delegarmi tutto devi anche vigilare affinché io sia professionale nel poter parlare a 360 gradi di quel prodotto non c'è dialogo e tutto ciò che conta sono le vendite e proprio per questo vi invito a fare una riflessione insieme usando però il mio nome perché non voglio tirare in mezzo altri influencer ma che sicuramente vi verranno in mente mentre io faccio questo esempio il punto di tutto è che non dovete comprare un fumetto perché Ocelot vi sta dicendo che dovete comprarlo e voi vi fidate di lui in quanto influencer voi non dovete mai fidarvi di Ocelot in quanto influencer dovete eventualmente comprare quel fumetto perché Ocelot vi ha detto i suoi punti forti e i suoi difetti il soggetto non deve essere il creator che consiglia bensì il fumetto consigliato perché il fumetto non ha valore in quanto prodotto che Ocelot consiglia ma è l'esatto contrario Ocelot deve essere la voce per le possibili qualità che quel fumetto già possiede e questo posso dirlo io con esami di comunicazione e nuovi media su cui ho sbattuto la testa per mesi ma cosa succede quando questo compito lo affidi a gente il cui unico pregio è avere tanti iscritti magari fatti unicamente riassumendo l'anime della settimana senza aggiungere uno stralcio di parere al riguardo o il cui contenuto di spicco quello con cui fanno più interazioni e la reaction fatta a qualcuno che valutano ne sappia meno di loro o che il parere più articolato che sanno dare a un'opera quando fanno un unboxing è bello bei disegni ecco che la comunicazione si appiattisce completamente tutti i prodotti sono uguali tutti i prodotti rispondono le stesse caratteristiche ne vedi uno li vedi tutti mi sono scritto alcuni pareri che vengono dati sui fumetti su questo foglio vediamo se riesco un attimo a riassumerli storia rivoluzionaria prodotto già amato in patria che arriva finalmente da noi comparto artistico particolare affascinante che saprà stuzzicarvi un piccolo capolavoro riserverà delle sorprese ne hai visto uno li hai visti tutti e ogni giorno ne spuntano di nuovi è una piaga e non è impossibile cambiare le cose ma il cambiamento dovrebbe partire da queste stesse persone che ne fanno parte ho di recente potuto visionare il form da compilare per partecipare come content creator al New York Comic Con erano una dozzina di pagine non sto scherzando in cui in ordine chiedevano queste cose cosa farai lì come creator che contenuti porterai come ti muoverai chi vuoi intervistare perché vuoi farlo i tuoi studi in merito un curriculum e solo alla fine un linkino social giusto per sicurezza e dare un'occhiata in Italia invece in Italia ad esempio se vai sulla pagina del redatto l'accredito è ma se hai più di centomila iscritti e penso questo spieghi un po' tutto non credete si è lasciato che spesso il manga venisse venduto a noi da persone che non hanno parecchie volte né arte né parte unicamente perché hanno tanti follower e dato che hanno tanti follower tante persone compreranno quel numero che consigliano disinteressandosi completamente totalmente di qualsiasi altra implicazione senza neanche istruire un minimo i creator affinché potessero perlomeno portare contenuti di analisi artistiche o storiche che non prendessero in giro le persone che lo stanno guardando quel video e soprattutto permettetemi una digressione riguardo al controllo che una casa editrice dovrebbe attuare sulle persone che lavorano per loro perché io sto collaborando sì ma se tu mi invi un manga gratis io decido comunque di parlare di quel manga perché devo spingerne le vendite e io comunque un compito importante per una casa editrice la casa editrice ci sta anche un po' mettendo la faccia dato che me l'ha regalato quel prodotto affinché io ne parli o mi ha chiamato per farci un panel a una fiera perché io non penso proprio ad esempio che un editor di una casa editrice giapponese sarebbe tanto felice di sapere che il suo fumetto sta venendo pubblicizzato da ad esempio un creator che poi però torna a casa e va in live e vede la stessa casa editrice pubblicati sulla stessa rivista giapponese ne strappa altri quattro di manga no? e badate bene il problema non è strappare i fumetti strappare un fumetto può essere un atto politico di rivolta contro un prodotto che non ci piace per lanciare un messaggio tuttavia se poi però io con quei prodotti di quella casa editrice voglio lavorarci o mi viene affidato il compito di pubblicizzarli mi sembra poi anche una mancanza di coerenza e soprattutto non penso che gli editor ai piani alti quelli giapponesi quelli che concedono i diritti sulle opere che fanno tutte parte di una stessa rivista ne sarebbero poi tanto contenti allo stesso modo magari di una casa editrice italiana che pubblica tantissimi manga che hanno anche risvolti sociali importanti che possono essere risvolti sociali per la consapevolezza della sessualità dei queer lgbtqa plus qualsiasi cosa che poi però fa pubblicizzare il proprio manga a uno che l'ora prima era andato in live a fare una reaction dando del redatto a uno con cui ha un'opinione contrastante magari così magari come chi cambia opinione riguardo al manga a seconda del postino che ti bussa a casa e ti porta un pacco da una diversa casa editrice per dire e badate bene per me la colpa non è da imputare tutta ai creator ai creator potrei ad esempio dire che siano in mala fede stiano prendendo in giro i propri spettatori ma più di quello non è totalmente colpa loro la colpa principale è di case editrici e fiere del fumetto che affidano il compito di pubblicizzare roba a persone senza fare un minimo controllo di qualità su come quella cosa stia venendo pubblicizzata tutto questo perché le loro pagine magari social di case editrice fanno addirittura meno interazioni di un content creator medio grande e quindi fidiamoci lui è sul web dal parecchio con tutti i prodotti di cui non se ne parla mai male o che comunque i difetti sono cose di poco conto ma che fa ma io sono sicuro che il pubblico non è stupido io sono sicuro che il pubblico se ne rende conto quando a seconda del fumetto alcuni difetti diventano più o meno evidenti per il content creator che ne sta parlando tipo quando uscirono le traduzioni nuove rivedute corrette di berserk e mi raccomando continuate pure a festeggiare che al primo posto nelle vendite di libri in italia ci sia un fumetto poco importa se quel fumetto è dragon ball super e dunque se una parte del mio discorso volgeva attorno al fatto che molto spesso per le case editrici basta assumere come pubblicitari tra virgolette perché comunque non sono assunti ma collaborano persone senza arte né parte unicamente perché hanno tanti iscritti sui social e poi all'atto pratico per loro tutto è bellissimo tutto è fantastico e appiattiscono completamente la critica da fare a questi prodotti per magari paura di non riceverne più o semplicemente per essere i cagnolini della casa editrice e venire invitati alle fiere del fumetto da un'altra parte c'è una cosa che reputo forse ancora peggio ovvero il conflitto di interessi perché se ne è parlato tantissimo negli ultimi giorni per gli anelli del potere ma se ne parlò anche l'anno scorso in parte un po' minore ma comunque nel nostro panorama abbastanza per quanto riguarda il live action di One Piece in cui guarda caso tutti quelli invitati alla premiere di questa serie ne parlarono benissimo nel loro primo video poi i pareri in seguito iniziarono a diventare un po' più duri però nel video appena usciti dalla premiere era oddio hanno cambiato le regole dell'esero ma chissà come mai chissà come mai e forse perché secondo me quando esiste un conflitto di interessi perché comunque ti stanno pagando o comunque ti stanno chiedendo un servizio specifico inizi un attimo a dire se ne parlo male però forse c'è un problema e di conseguenza se per me i recensori di fumetti inviati gratuitamente sono degli incompetenti la maggior parte delle volte per tutte le ragioni di cui vi ho parlato fino a ora nel caso di un video o uno scritto qualsiasi cosa fatto spesso anche sotto pagamento o comunque rimborso spese quindi stanno tirando fuori i soldi per te in quel momento non sei un recensore né tantomeno un critico perché sei in conflitto di interessi palese e non sei quindi recensore non sei un critico sei un pubblicitario a quel punto molte volte quando ti invitano in alcuni eventi ti fanno anche firmare delle deliberatorie come è uscito di recente per quanto riguarda Wukong e chi ha ricevuto la chiave gratuita come recensore hanno fatto firmare dei contratti almeno stando a quello che è uscito su internet in cui alcune cose non potevi dirle ma se tu firmi questo contratto e quindi dici no non parlerò di questo questo e questo non vi preoccupate non sei più un recensore non sei più un critico sei una persona che viene assunta per parlarne bene e se di questo se ne parla tanto in ambito di videogiochi secondo me se ne parla ancora troppo poco per quanto riguarda la parte video quindi ad esempio tutti i prodotti che escono al cinema sulle piattaforme streaming se ne parla ma non così tanto e molto spesso dice no non stai zitto non capisci niente sono lo che vuoi e se ne parla ancora più o meno e quasi nessuno ne parla per quanto riguarda fumetti che possono essere americani giapponesi e cose del genere e in un panorama del genere un panorama in cui c'è o chi viene pagato per parlare bene di prodotti o chi ne parla bene perché non ha neanche cognizione di come poterne parlare perché semplicemente il suo unico pregio è aver avuto tanti iscritti e sappiamo bene che avere tanti iscritti non ti rende necessariamente una persona competente ma anche semplicemente un tizio che fa ridere sul web in questo panorama è normale che poi tutto ciò che esce non diventa altro che mero uso e getta che mero cosa da consumare e dimenticare subito dopo il motivo per cui delle opere del passato che sono entrate nella nostra cultura in maniera molto diversa con una concezione molto diversa sono rimaste dentro di noi e invece adesso escono tante opere di cui ne parla tutto il web per una settimana e dopodiché non ne parla più nessuno in questo panorama io non vedo un progresso nell'interazione fra casa di produzione content creator per creare un ambiente a 360 gradi di valorizzazione dell'arte vedo soltanto un appiattimento e di conseguenza un declino completo dell'arte perché comunque di arte si parla cerchiamo di cambiare le cose poco poco bon blacklistato da editori fiere del fumetto e probabilmente ogni content creator di questa piattaforma ma per me va bene così perché se non siamo noi appassionati a voler portare un cambiamento alla situazione state sicuri che quel cambiamento non arriverà mai in realtà io so bene che ci sono tanti creator con cui ho parlato che la pensano esattamente come me ma capisco anche benissimo da un punto di vista prettamente lavorativo senza recriminare nulla che alcuni non possono esporsi così tanto quindi loro possono scrivermi in privato se hanno qualcosa da dirmi o per offendermi pure a me va bene pure non vi preoccupate oh se l'altro sei un cretino ad aver svelato queste cose per tutti voi lasciate un commento qua sotto un'iscrizione un like una condivisione perché altrimenti io davvero non potrò più mangiare dopo questo video anche se forse mi farebbe bene non mangiare più ma quello è un altro discorso e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video